Alcuni episodi unici dal 17 al 21, Marina può rovinare Lara e svegliare Ferri. Le puntate di Un posto al sole, la settimana dal 17 al 21 luglio 2023, si preannunciano ricche di colpi di scena. Al centro dell'attenzione continueranno ad esserci le vicende di Lara, che potrebbe trovarsi di fronte a un momento di verità. Dopo aver tradito e umiliato per un po' il suo ex compagno Roberto. La sua nemesi storica, Marina Giordano, potrebbe essere impegnata a mettere Lara nei guai, pronta a fare tutto il necessario per scoprire la verità. Lara rischia grosso nelle nuove puntate di Un posto al sole del 21 luglio. Le puntate di Un posto al sole in programma nella settimana 17-21 luglio 2023 saranno nuovamente incentrate sulle vicende di Lara. La donna si troverà messa alle strette da Ferri, sempre più titubante per l'atteggiamento troppo emotivo di Ida nei confronti di Tommaso. Lara cercherà di studiare l'undicesima mossa per evitare che l'imprenditore si concentri troppo su questi dubbi e così spera di poter portare a termine il suo progetto. Nei prossimi episodi, Marina sarà interessata al caso e forse lei stessa causerà problemi alla sua rivale in amore. Marina potrebbe smascherare Lara nelle prossime puntate di Un posto al sole. Nelle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda fino al 21 luglio, Marina deciderà di andare fino in fondo e di occuparsi della storia di Lara. Soprattutto dopo aver licenziato la sua ex babysitter di Tommaso Ado Hayerida. La donna oscura di Palazzo Palladini, l'indiscussa regina degli intrighi, potrebbe venire a mettere all'angolo i suoi nemici e far emergere la verità sulla relazione tra Lara e Ida. È dubbio che Marina riesca ad aprire gli occhi a Roberto Ferri, facendogli capire che c'è tanto di sbagliato nell'atteggiamento del suo ex compagno. Punto la verità potrebbe venire a galla, Roberto potrebbe scoprire che Lara non è la madre biologica del bambino, così come lui non è il padre biologico. Punto Rossella in Crisis with Annunzio, A Place in the Sun debutta il 21 luglio. Nell'attesa di vedere come si svilupperanno le cose, nelle prossime puntate di Un posto al sole torneremo anche a parlare delle vicende di Rossella. Il dottore diventerà sempre più nervoso in ospedale, complice una situazione poco chiara che si crea con Annunzio, dopo che si sono scambiati un bacio appassionato. Rossella dovrà pensare a quale strada scegliere, continuare la sua storia d'amore con Riccardo o voltare pagina e iniziare una nuova vita con Annunzio? La risposta è nei prossimi turni della stagione di quest'anno.